Notte in coperta! Che cosa? Che... che... che balla? Saluti e congratulazioni, comandante. Se ora sta guardando, significa che la sonda Yves è tornata dalla Terra con un campione confermato di fotosintesi in corso. Una pianta. È arrivato il momento di tornare sulla Terra e iniziare l'operazione ricolonizzazione. Ritornare? Sulla Terra? Affermativo, comandante. Beh... apriamola, avanti. Dov'è la... come si chiama? Pianta. Pianta. Giusto. Sì, sì. Insomma, dov'è? Non contiene campioni. Memoria che la sonda è difettosa. Scusa! Oh, quindi... non andiamo sulla Terra? Affermativo, comandante. La sonda deve essere difettosa. Al reparto riparazioni per un controllo. E aggiusta anche quel robot. È meglio. Innaffialo con la pompa. È sudicio. Ricachata. Ricachata. Si. Grazie per la visione! 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 Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, 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 sì.